Nel cuore della Germania, nel 1943, le baracche 18 e 19 del campo di concentramento di Sachsenhausen, a breve distanza da Berlino, risuonavano talvolta di musica serale. Questo suono, un riflesso lontano della disperazione e della fame più nera, si faceva strada attraverso il filo spinato che circondava il campo, mentre le finestre, dipinte di bianco, si mimetizzavano nell'oscurità circostante. All'interno di quelle baracche, in una zona isolata e inaccessibile, circa 140 prigionieri trovavano un breve riposo dalle fatiche del loro oscuro lavoro. Partecipavano al più grande progetto di falsificazione di banconote nella storia dell'umanità. Questa missione, conosciuta come Operazione Bernard, aveva l'obiettivo di produrre una vasta quantità di valuta falsa, destinata a essere introdotta nella circolazione britannica per minarne l'economia. In questa guerra non c'era bisogno di soldati, ma di abili artigiani capaci di disegnare, stampare e replicare con maestria. Competenze che i nazisti reclutavano fra i deportati. Il piano, originariamente noto come Operazione Andreas, fu concepito da due uomini dello Seekerheitsdienst, il servizio di intelligence delle SS, il potente gerarca Reinhard Heydrich e il suo fidato braccio destro, Alfred Nauyox. In previsione di un conflitto che avrebbe potuto sconvolgere anche l'economia, entrambi ritenevano che l'introduzione massiccia di banconote false nel territorio nemico, la Gran Bretagna, ma anche gli Stati Uniti furono considerati, potesse indebolirlo. L'introduzione di enormi quantità di denaro in un sistema, se utilizzate dalle persone per acquistare beni e servizi, aumenta rapidamente la domanda. Ma se l'offerta non è all'altezza, si verifica l'inflazione e di conseguenza una perdita di valore della moneta. Il progetto ottenne l'approvazione di Hitler alla fine del 1939, ma egli insistette che si concentrasse solo sulla falsificazione della sterlina britannica. Secondo gli esperti incaricati, per rendere efficace il piano sarebbe stato necessario stampare miliardi di banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline, distribuendole non solo in Europa e nelle colonie britanniche, ma anche in Nord Africa e Sud America. Replicare in modo credibile i biglietti della Banca d'Inghilterra si rivelò estremamente difficile. Il primo ostacolo fu rappresentato dalla carta usata per le banconote. I nazisti scoprirono che gli stracci necessari per produrla provenivano da un particolare tipo di lino che cresceva solo in Turchia e conferiva alle banconote il loro colore distintivo. Dopo numerosi tentativi, trovò il modo di renderla il più simile possibile all'originale, opacizzandone il colore attraverso un trattamento chimico durante la stampa. L'altra sfida era replicare le matrici di stampa inglesi e imitare la filigrana, una sofisticata combinazione che variava in base al codice alfanumerico adottato per ogni nuova emissione di denaro, al numero di serie e al nome del cassiere della Banca d'Inghilterra. Dopo mesi di sforzi, mentre la guerra infieriva, in segreto assoluto si giunse a un risultato. Nel 1941, una spia consegnò la prima partita di sterline false alla banca svizzera in una valigetta. Le banconote erano così perfette che gli esperti svizzeri, consultati anche dai colleghi britannici, le ritenevano autentiche. Il gioco era fatto. Ora restava solo da stamparle in grandi quantità, compito affidato alla forza lavoro dei campi di concentramento. Dal 1942, il comando del progetto fu affidato al maggiore delle SS, Bernard Kruger, da cui l'operazione prese il nome definitivo. Kruger reclutò tipografi, disegnatori, incisori e contabili fra i deportati ebrei di vari campi. Chi meglio di loro avrebbe mantenuto il segreto, lavorando instancabilmente giorno e notte. Arrivarono a decine nel campo di concentramento di Sachsenhausen, a 35 chilometri dalla capitale. Oltre a destabilizzare gli inglesi e rafforzare il potere dei servizi di sicurezza delle SS, il piano di falsificazione mirava a impiegare una parte dei prigionieri, dei lager a fini produttivi, sfruttando la mano d'opera maggiormente qualificata. Non è un caso che Sachsenhausen sia stato scelto, essendo il fulcro dell'ispettorato dei campi di concentramento e un modello di efficienza nell'utilizzo delle risorse. Kruger esigeva il massimo rendimento nel minor tempo possibile, promettendo in cambio cibo in quantità e condizioni migliori rispetto agli altri internati. Adolf Kruger, scrittore e tipografo slovacco, descrisse la vita nella baracca 19. Era tutto diverso per noi. Avevamo letti con coperte bianche, abiti civili, sigarette, giornali e una radio. Stampavamo denaro fino alle 5 di sera, con un'ora di pausa per il pranzo. Nessuno sapeva cosa facessimo lì dentro. Uscivamo solo ogni 4 settimane per fare un bagno. Fra le attività dei falsari, sorvegliati da guardie delle SS, vi era quella di invecchiare le banconote passandole di mano in mano e perforandole con uno spillo sui bordi per simulare l'usura dovuta al normale utilizzo. Sebbene privilegiati, i prigionieri di Kruger sapevano che il loro destino era segnato. «Quando la sera andavo a dormire, pensavo fra me e me. Sei un morto in vacanza, non uscirai mai da qui», raccontò uno di loro. I prigionieri tentarono di sabotare l'attività rallentando il lavoro, come raccontò il tipografo norvegese Moritz Nackstern, ma senza insospettire le SS. Nonostante ciò, vennero stampate almeno 133 milioni di sterline, quasi 6 miliardi di euro attuali, anche se ne circolò solo poco più del 10%. Per compromettere la credibilità della valuta britannica, il valore delle banconote contraffatte sarebbe dovuto essere enormemente superiore a quello già in circolazione. I nazisti si resero presto conto che sarebbe stato impossibile saturare la Gran Bretagna e l'Europa con una quantità così massiccia di denaro falsificato. Di conseguenza decisero di destinare le risorse del denaro contraffatto ad altri scopi, come il finanziamento di operazioni segrete, l'acquisto di armi o il pagamento di informatori, fra i quali figurava anche l'agente segreto albanese Elieza Bazna, conosciuto come Cicero. Gli inglesi, venuti a conoscenza del piano, si limitarono a vietare l'importazione di sterline e, una volta terminato il conflitto, a ritirare alcune serie di banconote. Winston Churchill, riconoscendo la qualità dei biglietti, preferì consentire il continuo circolare del denaro falsificato e mantenere l'intera vicenda riservata anziché suscitare un'enorme attenzione. Con l'avanzata degli alleati verso Berlino, i tedeschi trasferirono uomini e risorse in altri campi, come quello di Ebensee nelle Alpi Austriache. Successivamente tutto ebbe termine. A causa di un ordine frainteso, i prigionieri falsari non furono giustiziati, mentre una parte del denaro rimanente, raccolto in casse metalliche, fu gettata dai nazisti in fuga nel lago Toplitz in Austria, dove fu recuperata nel 1959. Nonostante non abbia raggiunto obiettivi significativi, l'operazione Bernard è definita come uno dei più eclatanti tentativi di diffondere una massa di denaro contraffatto, confondendo il legale con l'illecito.